bufera improvvisa su silvia toffanine verissimo il pubblico ha praticamente fatto una sommossa sui social dopo la notizia che è stata rilanciata sul profilo ufficiale del programma televisivo tantissimi attacchi sono dunque apparsi nelle scorse ore e hanno preso di mira anche un altro personaggio che si accinge a farsi vedere nella giornata di domenica 7 gennaio una rivolta vera e propria contro silvia toffanine verissimo e non sappiamo se ci saranno prese di posizione da parte della conduttrice per difendersi da queste polemiche tutto è successo improvvisamente nel momento in cui su instagram è stata pubblicata un'immagine raffigurante uno dei prossimi ospiti del programma che va in onda su canale 5 nel momento in cui l'ospite noto al pubblico è stato ufficializzato dal programma di silvia toffanine verissimo ha subito uno degli attacchi più duri degli ultimi tempi coinvolta anche la trasmissione uomini e donne infatti la protesta è nata proprio dalla presenza di uno dei volti più discussi del dating show di maria de filippi che approderà davanti alla compagna di pier silvio berlusconi le critiche sono state riservate all'ex cavaliere di ued ed ex fidanzato di da platano alessandro vicinanza non è un personaggio famoso e soprattutto che ruolo ha nella tv italiana per essere intervistato a verissimo una vergogna all'intelligenza umana devono essere davvero alla frutta per invitare un personaggio di uomini e donne sono stati i commenti